Buongiorno a tutti, io vi sono Pecheme, oggi vogliamo parlare del nostro recap SDA per quanto riguarda tutte queste partite che abbiamo visto ante sorprese come Lazio-Juventus dove la Lazio porta a casa tre punti molto importanti, Napoli-Atalanta dove l'Atalanta distrugge il Napoli per 3-0, poi abbiamo visto anche l'Inter che si porta 2-0 e si porta verso il traguardo che è lo Scudetto, infine abbiamo visto il pareggio alla Roma e la vittoria dal Milan, veramente partite veramente importanti dove andremo a parlare soprattutto anche della classifica che si sta muovendo in un modo veramente buono per alcune squadre, brutto per altre squadre, ma prima di tutto parliamo della zona retrocessione. Zona retrocessione dove vediamo veramente Sassuolo, Salernitana e Empoli che rischiano veramente la retrocessione, rischiano di non rimanere in Serie A, 25 punti, l'Empoli, Sassuolo 24, Salernitana 14. Sassuolo porta un pareggio a casa, un pareggio veramente importante che segna in alcune circostanze il cammino di alcune squadre come Sassuolo che veramente deve migliorare assolutamente le ultime 8 partite, deve fare qualcosa di incredibile per salvarsi. Abbiamo visto tanti pareggi come il Lecce, come l'Udinese, come il Verona, come il Cagliari e Frosinone e Sassuolo. Per quanto riguarda la classifica alta della Serie A, abbiamo l'Inter che vince 2-0 contro l'Empoli, una partita che abbiamo visto dove l'Inter ha fatto una grandissima prestazione. Il primo tempo al quinto minuto passa in vantaggio di Di Marco, poi la chiude un grandissimo Sanchez che veramente chiude i battenti e si aveva a quota, la quota 79, un Inter che secondo me sta pensando su tutto l'obiettivo. L'obiettivo è lo Scudetto, si parlava all'inizio del campionato di Scudetto, è uscita dalla Champions League, l'Inter quindi l'unico obiettivo che ha e lo Scudetto è quello di portare al termine fino alla fine. Milan che si conquiste secondo posto con una scia di vittoria veramente incredibile dopo la sconfitta del Monza, il Milan ha ritrovato la soluzione per rimediare questi problemi e come avete visto è un Milan che mi è piaciuto molto tutto nel primo tempo, grandissimo Magnano e Leao che hanno veramente fatto una grandissima partita ma anche Taylor Nandez, Lotus Cheek si conferma ancora, un giocatore che può far male davanti alla porta ma che ha fatto Leao, che assist è dato a Lotus Cheek di tacco, trova Lotus Cheek davanti alla porta che segna l'1-0, poi arriva il gol di Duncan che è veramente un gol, un tiro veramente imprendibile, poi arriva la bellezza di Raffaele Au che segna il 2-1. Un Milan che mi aspettavo tonico dopo il 3-1 contro il Verona mi aspettavo un Milan che reagisse, questa sosta secondo me ha fatto bene la squadra di Pioli che continua ancora a vincere, si distanzia tutto dalla Juventus che resta a 4-59 dopo la sconfitta che ha subito per quanto riguarda la Lazio una Lazio veramente che dopo l'abbandono di Sarri nella panchina ritorna in Italia a Tudor, stavolta con la maglia della Lazio Tudor vince la sua prima partita, prima partita che secondo me può creare tutto un buon cammino con quanto riguarda la Lazio che se andiamo a vedere la classifica, è una classifica dove la Lazio può ancora entrare in zona Champions perché si levano 11 punti che sono tanti ma vediamo la Lazio che porta due vittime consecutive, una contro il Frustinale, una contro Juventus, è un big match la prossima giocherà contro la Roma e ci sarà il derby molto importante che potrà decidere tante cose ma è una Roma che secondo me con De Rossi sta facendo pure molto bene quindi le due romane secondo me stanno ritornando allo storio di forma attuale quindi mi sono piaciuto tutto Roma e Lazio per quanto riguarda la Juventus sicuramente sta avendo tutta una situazione molto critica e potrebbe essere risucchiata tutto dalle altre squadre che stanno lottando per un posto in Champions League come vedete il Bologna vince ancora, va a quota 57, va a meno 2 dalla Juventus una Juventus che secondo me deve assolutamente trovare tre punti nella prossima partita la prossima giocherà contro la Fiorentina che è veramente una partita delicata per quanto riguarda la Roma mi aspettavo un po' di più contro il Lecce ma il Lecce rischiava anche di portarsi a casa tre punti con la traversa di Odin una Roma veramente riconoscibile che speravo che si portasse a casa tre punti molto importanti ma invece non è riuscito tutto nell'impresa De Rossi un pareggio che non elimina la scia positiva della Roma poi stasera ci sarà tutta la Coppa Italia tra Juventus e Lazio un'altra partita molto importante che analizzeremo più in là per quanto riguarda questa giornata ho visto un Inter veramente tonico un Atalanta che secondo me il Napoli l'ha sottovalutata e quindi un Napoli veramente inguardabile Calzona deve migliorare soprattutto l'assetto difensivo perché ha preso tre gol veramente dove deve restare molto attento ci deve essere molta molta attenzione un Atalanta veramente che disintegra tutto il Napoli si porta a quota 50 nelle ultime cinque partite ha fatto due pareggi, due sconfitte, una vittoria arriva contro il Napoli un Napoli che secondo me rischia di non entrare in nessuna competizione europea anche se mancano otto partite otto partite sono otto per tre ventiquattro punti che possono far gol a qualsiasi squadra importante per quanto riguarda il Bologna ancora il Bologna si conferma va a segno anche se le Makers e Orsolini quindi un Bologna oramente che anche porta a casa varianti punti molto importanti e Tiago Amotta sta facendo un grandissimo lavoro grandissimo lavoro che secondo me può segnare la sua carriera anche in questo calciomercato estivo calciomercato estivo che sicuramente qualche squadra vorrà prendere Tiago Amotta nella propria panchina per quanto riguarda per quanto riguarda invece le altre squadre come Torino, Fiorentina Monza, Genoa, Lecce, Udinese e Verona ho visto soprattutto una dei migliori sta il Torino che si porta a casa una vittoria molto importante per quanto riguarda questa giornata la cosa, la sorpresa che ho visto è l'arrivo di Tudor che ha messo già, non parliamo di segno ma secondo me ha messo un po' di mentalità in questi giocatori ho visto giocare una Lazio veramente diversa ho visto giocare una Lazio che attaccava in qualsiasi posizione di campo per quanto riguarda il Milan il Milan normalmente si sta intendo in uno stradiforme pazzesco che nelle ultime otto partite può fare la differenza soprattutto in Europa League oltre a questo recap di Serie A volevo parlare della mia squadra un'altra della squadra che è tipo che oltre al Milan è il Palermo un Palermo che finisce in 4-3 per il Pisa ma vorrei anche dire una cosa a quanto riguarda questa squadra che non riesco a capire è che non riesco a capire che se tu stai vincendo per 2-0 nel primo tempo e poi ti fai recuperare e vai di nuovo in vantaggio con il calcio di rigore di Brunori vorrei capire come mai anche in 10 riesci a prendere due gol riesci a prendere due gol e perde addirittura la partita perché non riesco a capire l'espulsione di Gomez come mai si fa a prendere due catenini gialli visto che già ne avevi preso uno e non riesco a capire come mai questa situazione sta succedendo proprio a Palermo e Corini non riesce a trovare una soluzione questo Palermo ragazzi continuando così non va in Serie A non va in Serie A perché se andiamo a vedere le partite ha fatto il Palermo ci sono due partite in cinque partite ha fatto quattro sconfitte e una vittoria quindi è un Palermo che secondo me deve fare un po' di mia colpa e deve pensare soprattutto a rimediare queste lacune lacune veramente importanti perché tu perdi contro il Tarnana perdi contro il Blescia vinci con il Lecco e poi perdi contro il Venezia e perdi contro il Pisa ma perdi partite che tu stai portando in vantaggio dal primo tempo quindi contro il Venezia è stata veramente una disfatta 3-0 ma contro il Pisa dovevi vincerla perché tu hai portato in vantaggio il Palermo 2-0 con Lund e con Lund con Brunori e Lund e stavi in vantaggio un gol annullato fuori gioco poi c'è stata dell'ammunizione con Gomez con i Balì poi arriva il gol del pareggio di Alessandro e Bonfanti e infine arriva l'espulsione di Gomez e il caceritore anche di Brunori quindi in questo tratto di partita dovevi secondo me chiudere la partita prima dell'espulsione le portare in vantaggio in 10 quindi avevi il vantaggio di stare di stare un gol in più e dovevi assolutamente chiudere chiuderti in difesa e attaccare tutte le ripartenze doveva stare così Tramoni Tramoni ha portato il vantaggio il Pisa con una doppietta negli ultimi minuti 84esimo e 90esimo più recupero che secondo me è un Pisa che alla fine ci ha provato e ci ha credo fino in fondo vedendo che aveva il vantaggio di 11 giocatori c'è credo fino in fondo e secondo me si porterà a casa questi punti per quanto riguarda la situazione secondo me il Palermo con decisione così non va in Serie A è una partita dove ho visto un Palermo che attacca trova le azioni trova il gol e ha tante chance alla squadra ma non riesco a capire poi alla fine di ogni partita si perde con un bicchetto d'acqua questo è il problema del Palermo questo è il problema del Palermo che non riesce a tenere la tensione a tenere la tensione contro la tensione e non riesce a reagire reagisce va in vantaggio ma poi negli ultimi minuti si fa recuperare perde partite perde punti prende tre gol in partenza e perde partite in questo modo ha perso contro il Brescia che ha preso quattro gol tutti insieme e poi cercava di assegnare due gol e poi finita 4-2 ha perso nel Venezia tre gol nei primi minuti sono arrivati tre gol e poi ha perso contro la Ternana se non sbaglio e poi ha perso contro il Pito 4-3 è un Palermo che gol deve fare ma deve fare quelli giusti e portare a casa tre punti fate per te se i commenti cosa ne pensate di questo recap un recap che alla fine l'ho fatto dopo le fester che c'era Pasqua e Pasquetta in mezzo quindi non ho potuto fare il video ma oltre a questo volevo dire che il Milan e l'Inter stanno facendo un grandissimo campionato l'Inter sicuramente vincere allo Scudetto quest'anno le differenze dei punti sono assai 14 punti sono tantissimi in otto partite se succederà qualche se succederà qualche sorpresa parleremo di lotta Scudetto ma in questo momento è un Inter che ha unico obiettivo lo Scudetto non ha più nessuna competizione a giocare quindi sarà veramente difficile per quanto riguarda il Milan dovrà giocarsi l'Europa League fino in fondo e secondo me dovrà giocare la carta le ao in Europa League che è un giocatore veramente importante che può fare gol a tante squadre in questo calciomercato estivo ci vediamo al prossimo video ragazzi sempre forza mine forza Valermo recap dove abbiamo parlato di una maggior parte delle squadre porteremo altri video più approfonditi per quanto riguarda le situazioni delle squadre di Serie A per quanto riguarda tutto il calciomercato e porteremo altri contenuti che vi aggiornerò soprattutto su Instagram bella ragazzi che vi aggiornerò e porteremo un po' di